Il nostro ospite è contrariato. Se va a nanna ce ne dovremmo andare. Fortuna che il vecchio conte abbia prodotto un'erede prima del trapasso. Una grande fortuna. Ma solo io era avviso nel piccolo una vaga somiglianza col maggiordomo di Miledi? Penelope. Che orribile malignità. Colin. Ho provato mentalmente quel discorso per ore. Se tuo cugino non renderà il denaro e non vi lascerà in pace, avrò qualcos'altro da dirvi. Mi è sbalordata Colin. Grazie per averci protette. Ti proteggerò sempre Penelope. Sei speciale per me. Lo sai anche tu. Per me. Ti amo dal profondo del cuore. Ti amo per il passato, il presente e il futuro. Ti amo per i figli che avremo e per gli anni che trascorreremo insieme. Ti amo per ognuno dei miei sorrisi e ancora di più per ciascuno dei tuoi. Ti amo per i figli che avremo e 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 per i figli che avremo.